La prima batteria di carifica, ricordiamo che i tempi sono fondamentali, un giro sprint, campana nell'ultimo giro, visto che sono i tempi a fare da riferimento e a selezionare le sei craniste, noi comuniceremo batteria per batteria dei tempi indicativi che sono sprettamente un piccolo esempio, perché non è dimostrato la prima batteria che taglia il traguardo, la che consente a noi di capire l'andamento delle diverse batterie sull'operazione di gas, 33,42 ad esempio, viene in appartenenza anche per i concorrenti della seconda batteria, le dobbiamo transitare davanti a noi in questo istante, pronti per affrontare questo giro a tutta la velocità, sentendo il tempo che si può riferire la classifica, quindi si vuole che potrebbero rispettare la finale per contestare almeno uno dei primi sei tempi migliori su tutte di una nuova batteria che disputeremo tra breve. Tempo di riferimento per loro, 35 e 20. Tene la partenza anche per la batteria numero tre, sono in gara con il numero 800 con il tre, ma è l'Asia che ha preso la guida di questa terza batteria, con l'Europa sull'Alessandro, Martina Martina, Giorgio, Aira e Maxa Martina. La batteria dell'O3 affronterà l'ultimo tratto di percorso, dopo che il campo si è allungato sull'arrivo, 32 e 14. Tempo di riferimento per tutti. Per quanto 4, la prima di riferimento si sta a parto a batteria numero 5, alla guida davanti tutte si porta la truta mille orecchie di tutto coso. La batteria continua stati più in configura fino al telefono, ultima batteria alla strada? Ci hanno re ortize con irony accorgo! E' l'archiv d' Pulpo di Riferimento per il nuovo, rarrivo contro il nuovo, la libertà viene portata, il FRED merde assenza con la portata a batteria numero 5, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.